Con la serata di sabato 21 maggio a Villa Ubizi si è concluso il ciclo di appuntamenti organizzati dal punto A. Questa serata innanzitutto consiste la chiusura di un ciclo di giorni, siamo partiti dal 7 con il carnevale, con i 14 che purtroppo causa maltempo, l'abbiamo rimandata questa sera. Abbiamo già stato la domenica 15 che è andato abbastanza bene considerando anche che abbiamo avuto un pomeriggio abbastanza bagnato. Perciò diremmo che come conclusione è una serata questa stupenda, si sta bene fuori, è una serata calda e ritengo che questo sommarsi oltretutto di questi dieci anni messi insieme sia stato un periodo sicuramente per Albignasago un periodo molto importante, abbiamo fatto cose che ad Albignasago sicuramente non si erano mai state fatte. In questi dieci anni le cose più importanti le possiamo appunto riassumere in innanzitutto cercare di coinvolgere il tessuto commerciale che questa era l'unica nostra finalità, la sfilata di moda che per alcuni anni sicuramente ha polarizzato l'attenzione della nostra città di Albignasago della pista di ghiaccio, del grata e vinci, tutto quanto per poter cercare di portare clientela dentro presso i nostri punti vendita. Molti hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa dai più grandi ai più piccoli, divertiti anche dalla presenza di giocolieri e cabarettisti. Non sono mancate le occasioni di cenare insieme grazie agli stand gastronomici organizzati e gestiti dai commercianti di Albignasago. Come sta andando questa serata? Bene, molto bene. C'è molta gente e sono un po' arrabbiati perché c'è troppa gente per mangiare, stanno aspettando un sacco, però è una bella serata. Bello, tanti bambini, tanto divertimento, bellissimo. Siamo a Carpanedo per chi volesse, tutte le mattine. Via Roma 3, 2, 4. Beh, io ho già visto la serata dei carri, è stata molto bella. Stasera ho visto che avete replicato in maniera assolutamente bellissima e quindi adesso non ci resta che mangiare le prelibatezze che ci offrite. Avete fame? Moltissima. Con l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale e in modo particolare il gruppo del direttivo dell'associazione commercianti.a. Siamo partiti 10 anni fa in 15 persone, siamo rimasti chi probabilmente ha più creduto nella forma associazionistica, siamo rimasti in 5 persone, 5 persone che intenderei ringraziare personalmente ognuno. E spero proprio che questo possa essere anche di stimolo e di esempio per il futuro in quanto i giovani sarebbe giusto che la prendessero in mano loro e noi saremo ben disposti a dare il testimone per avere continuità. La serata si è conclusa con lo spettacolo del gruppo di musica popolare salentina Ischanari e con la premiazione del carro della Proloco che ha sfilato nella serata inaugurale dei carri mascherati. La serata si è conclusa con lo spettacolo del gruppo di musica popolare salentina. La serata si è conclusa con lo spettacolo del gruppo di musica popolare salentina. Grazie a tutti.